Nascondere che buona parte della struttura delle azioni e dei comandi di Lords of the Fallen sia stata ereditata dai due Dark Souls è impossibile, eppure il team di sviluppo è riuscito a trasformare quello che poteva tranquillamente essere un mero copia in colla in un titolo con uno stile di gioco molto personale. Durante la creazione del personaggio ci vengono offerte delle scelte per quanto riguarda l'equipaggiamento di base. I classici ladro, chierico e guerriero definiscono rispettivamente gli stili leggero, bilanciato e pesante. Questa scelta sarà modificabile nel corso dell'avventura e potrà essere adattata al proprio approccio selezionando pezzi di equipaggiamento della classe che ci interesserà. Non potrà invece essere cambiata la scelta della scuola di magia tra inganno, conforto e rissa. Questi tre stili potranno essere combinati in modi diversi dando luogo a nove combinazioni di base. Sin dai primi minuti di gioco si avverte la pesantezza del nostro eroe con dei movimenti molto lenti e realistici che implicano un uso consapevole della propria resistenza, pene a rimanere senza fiato nel bel mezzo dello scontro. Anche il sistema di impatti è studiato per trasmettere il senso massiccio della potenza sprigionata. Nonostante tutto sarà molto semplice seminare il panico tra i primi nemici che per quanto grossi potranno essere spazzati via con relativa facilità. Per quanto riguarda i boss già dai primi incontri trasfare la cura riposta nelle strategie avversarie, con dei combattimenti divisi in step consecutivi in base alla percentuale di vita che resta all'avversario. Man mano che quest'ultima scenderà, lo scontro prenderà una piega sempre più pericolosa. I boss, una decina in totale, seguono tutti questa filosofia ma risultano altalenanti in quanto a coefficienti di difficoltà. Alcuni scontri si rivelano sin troppo semplici, mentre altri richiedono uno studio più attento del comportamento nemico e dell'area di gioco, senza mai scadere in una frustrazione eccessiva. L'idea di base di Lords of the Fallen è rendere l'intero gioco mediamente difficile, senza ricorrere necessariamente ai boss per frenare l'avanzata del giocatore. Nel complesso, il quantitativo di danni subiti è sempre permissivo, i checkpoint sono frequenti e il rischio di essere uccisi con un singolo colpo è piuttosto basso. Gli sviluppatori insomma pretendono un'attenzione costante da parte di chi gioca, ma mai a livelli estremi. La progressione viene scandita non più dai falò, ma da cristalli rossi che fungono come oasi, in grado di far recuperare vita e pozioni. A differenza di quanto accade nella saga di Souls, tuttavia, ristorarsi non implicherà il respawn dei nemici, che avverrà solo cambiando area o in caso di morte. Gli sviluppatori hanno inoltre voluto giocare con l'avidità dei giocatori, inserendo un diabolico sistema di perenne scommessa sul proprio successo. Infatti più nemici ucciderete senza spendere esperienza per salire di livello e senza morire, più alto sarà il moltiplicatore di esperienza, fino a raddoppiare il valore delle vostre entrate. L'XP potrà naturalmente essere spesa per far salire di livello e il protagonista, guadagnando importanti punti caratteristica per utilizzare equipaggiamento sempre più potente, oppure per dare punti alle abilità magiche del ramo scelto a inizio partita. La prima, comune a tutti i personaggi, crea un'esca in mezzo al campo per dare un attimo di respiro, mentre le altre sono di vario genere. Si va dal classico berserk fino ad una magia di scudo, passando per la possibilità di occultarsi e procedere non visti. Utilizzare uno di questi incantesimi consumerà il vostro mana, al pari dell'utilizzo del gauntlet, un guanto da indossare sulla mano sinistra, che in base alla versione equipaggiata potrà lanciare bombe o onde d'urto. Purtroppo quest'ultimo esce con le ossa rotte dal confronto con le magie standard, offrendo vantaggi irrisori e impedendo di usare un vero e proprio scudo per difendersi, imprescindibile in molte situazioni. Il mondo di gioco non è molto vasto e le location sono solamente due, il regno degli umani e il regno dei rogar. La varietà quindi non è mai troppa e si può dire che arrivati a metagioco si è già visto quasi tutto. L'esplorazione è comunque interessante, con un level design non sempre chiarissimo, che considerata anche una certa somiglianza disarmante di certe aree, non faciliterà il nostro compito di cartografi del regno. Grazie alla presenza di alcune missioni secondarie aggiuntive, andare alla ricerca di aree segrete e tesori nascosti farà la gioia dei patiti dell'esplorazione, con alcuni personaggi che ci daranno pezzi di equipaggiamento in cambio di reliquie. Per quanto riguarda la longevità, la nostra prova ha richiesto circa 15 ore, ma qualche ulteriore tempo può essere speso nelle attività secondarie. A fronte di un design non troppo vario ed eccessivamente stereotipato secondo i canoni del fantasy americano, le texture sono tuttavia ben definite vivide. L'illuminazione volumetrica offre al colpo d'occhio un gran tocco di realismo, e i poligoni sono abbondanti tanto negli scenari quanto nei personaggi. Menzione particolare ai particellari, con scintille che reagiscono agli impatti e illuminano la scena in modo davvero notevole. Con tanta bellezza si paga tuttavia cara. Su PC il gioco è risultato piuttosto pesante, specialmente negli spazi aperti, in cui i frame drop non hanno esitato a manifestarsi in più di un'occasione. Il comparto sonoro è buono sia per quel che riguarda gli effetti che per il doppiaggio, in inglese, mentre la traduzione in italiano è limitata solamente ai testi scritti. Lords of the Fallen è indirizzato a coloro che cercano una sfida interessante ma non proibitiva, senza voler cadere nella frustrazione di un gameplay troppo elitario per chi ha poco tempo da dedicarvi. È una soddisfazione moderata che richiede un impegno commisurato e non vuole punire immotivatamente il giocatore. Sperando che i problemi tecnici di cui attualmente soffre siano risolti al più presto da una patch, Lords of the Fallen va visto come una sorta di enorme tutorial che vi accompagna passo passo nelle dinamiche tipiche di una serie già entrata nella storia, tenendovi per mano ed aiutandovi a rialzarvi quando cadete.